Noi riteniamo comunque di continuare a subire un torto e quindi andiamo avanti con il grado di giudizio successivo. Insomma, avevamo detto che ci saremmo riuniti oggi, siamo tutti d'accordo, i soci di minoranza e i soci di maggioranza e quindi senza entrare nel dettaglio di quello che possono essere le motivazioni che poi stanno ai legali che ci seguono, andiamo avanti perché riteniamo che ci siano ancora i presupposti per salvare la matricola e per salvare la società nella sua interezza. Dopo i consulti con gli avvocati, con i soci attuali e con i soci futuri, siamo tutti convinti di poter comunque giocare la partita in sede Consiglio di Stato e quindi abbiamo deciso di andare avanti. Le quote sono di mia proprietà e così come già condiviso c'è un preliminare con la predisposizione al subentro del gruppo Spinelli sia nell'attuale 60 che eventualmente nel 31 che come sapete tutti era già previsto nel primo preliminare. Posso chiedere se questo percorso di ricorso al Consiglio di Stato pensa che possa, tra virgolette, un po' ostacolare quello di cui ha parlato il sindaco questa mattina, ovvero dalla pubblicazione dell'avviso pubblico per la Serie D? Io spero che ci siano davvero, se ci sono imprenditori interessati, possano fare il loro percorso. Il sindaco giustamente sta facendo quello che è un atto doveroso e quindi è giusto valutare cosa ci può essere rispetto a una potenziale Serie D ma non dimentichiamo comunque quello che è successo l'anno scorso con la San Benedettese insomma quindi non è detto che poi non sia invece l'attuale compagine a dover virare verso la Serie D però insomma queste sono cose, sicuramente non ci sono, non sono percorsi contrapposti nel senso che il sindaco giustamente oggi fa un percorso che è doveroso rispetto alla città dall'altra parte per noi è doveroso, per noi come soci e come amministratori è doveroso fare questo percorso perché non dimentichiamo che se poi l'azienda dovesse non poter proseguire la sua attività imprenditoriale gli amministratori soci devono tentare comunque fino alla fine di salvaguardare quello che è il patrimonio sociale. Io quando dico purtroppo gli amministratori e i soci del Teramo Calcio devono assolutamente percorrere tutto quello che è possibile e immaginabile come vedete io non faccio riferimenti né a motivazioni né altro perché queste sono cose che riguardano gli avvocati io parlo solo di atti che riguardano gli amministratori e i soci sono obbligati a tutelare tutto quello che è il patrimonio il patrimonio si intende tutto nella sua interezza fino all'ultimo grado di giudizio se poi anche all'ultimo grado di giudizio questo ci verrà negato è una valutazione che a seguire faremo purtroppo delle valutazioni che saranno quelle della liquidazione però oggi noi ancora a questo non ci pensiamo.